Partita chiusa per quanto riguarda il riassetto della giunta regionale dopo l'uscita dall'esecutivo di Donato Di Matteo e Andrea Gerosolimo in aperta polemica con il presidente Luciano D'Alfonso. Dopo Giorgio D'Ignazio a cui è stata data la delega al turismo arriva Lorenzo Berardinetti. Il sindaco di Sante Marie, consigliere regionale di Regione Facile, ottiene deleghe piuttosto pesanti come quella ai lavori pubblici. Il timing dell'ingresso in giunta di Berardinetti potrebbe non essere casuale perché arriva proprio alla vigilia del voto previsto per venerdì sulla mozione di sfiducia presentata dai consiglieri di Forza Italia, Febbo e Sospiri e sostenuta dall'opposizione. E proprio in quest'ottica dopo i mal di pancia dimostrati dal gruppo di MDP articolo 1 arriva anche la delega alla ricostruzione post-sisma per il sottosegretario alla giunta Mario Mazzocca che quindi sovraintenderà all'ufficio speciale per la ricostruzione. Siamo di fronte ad un esecutivo agonizzante che si regge su un numeri risicati con una maggioranza composta da consiglieri che pensano esclusivamente ai propri interessi di bottega rimanendo incollati a quella sedia per qualche mese in più pur di incassare lo stipendio. Tuona dai banchi dell'opposizione il consigliere regionale Mauro Febbo che attacca. Berardinetti fa parte dello stesso gruppo consigliare di Di Matteo che oggi però è all'opposizione. Abbiamo consiglieri regionali di centro-sinistra senza spina dorsale e dignità che gli abruzzesi non vedono l'ora di mandare via dalle istituzioni regionali nella ormai prossima tornata elettorale. Il clima in vista della seduta di venerdì del consiglio regionale si sta surriscaldando. Attualmente salvo colpi di scena dell'ultima ora la maggioranza può disporre di 16 voti contro i 15 della minoranza.